La quarta gamba della coalizione di centrodestra serra i ranghi e muove gli alfieri Luigi Fedele, candidato al plurinominale Sud, e Francesco Talarico, candidato all'uninominale di Reggio. Fedele non ha dubbi, noi con l'Italia sarà determinante per la vittoria finale. Questo partito che vuole essere veramente il perno dei moderati in Italia, con quali prospettive? La prospettiva è intanto di far vincere il centrodestra, perché quella piccola percentuale che manca per raggiungere il 40%, per il centrodestra e tutta la coalizione sicuramente darà anche in modo determinante noi con l'Italia a farla raggiungere. Quindi questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello di governare l'Italia, governare l'Italia certamente con grandi interessi ai cittadini, grandi interessi, come già il nostro programma dice, alla diminuzione delle tasse, alla sicurezza, all'accoglienza, alla famiglia per quanto riguarda il nostro partito, che ci teniamo molto anche su questo aspetto, e poi una grande attenzione al Sud. Talarico allarga il quadro e pensa anche alle prossime elezioni regionali. Proporeremo intensamente per rafforzarla, per farla conoscere ai calabrese e io ritengo per la storia anche elettorale della nostra regione il voto moderato, lo scudo crociato, i tanti democristiani che sono radicati su tutti i 409 comuni della Calabria possono individuare nel nostro partito, nel nostro progetto, un approdo sicuro anche in vista delle prossime regionali dove il nostro progetto potrebbe essere con progetto a due cifre. Riccardo Tripepi per la CNews24